La bolletta dell'acqua potrebbe subire rincari nel Salernitano e il distretto Sele ha di recente rivisto le tariffe. Le decisioni circa l'adeguamento tariffario sono state assunte nella seduta del Consiglio del 26 maggio scorso. Sono state ratificate dal Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano e ora attendono l'esame dell'Autorità di Regolamentazione per Energia Reti Ambiente. I nuovi schemi tariffari proposti dai quattro gestori del Servizio Idrico Integrato del distretto Sele, ovvero Ausino per la Valle dell'Irno, Cava dei Tirreni e la Costiera Amalfitana, Consac per il Cilento e Vallo di Viano, Asis per la Piana del Sele e Salerno Sistemi per il capoluogo, riguardano il quadriennio 2020-2023. Gli aumenti più marcati a sud della provincia, quindi nell'area Consac, del 3,9% per il 2020, 4,8% per il 2021 e nel biennio successivo aumenti del 2,9% nel 2022 e del 3,7% nel 2023. La stangata è più importante per gli utenti della Piana del Sele, dove le tariffe salgono dell'8% circa tra il 2020 e il 2021 e crescono ulteriormente nel biennio successivo. Tariffe ritoccate di poco invece nel capoluogo e a nord della provincia. La diversità di trattamento spiegano è dovuta a costi operativi, investimenti, nuove programmazioni. Sono tutti fattori che variano a seconda dell'area, quindi della necessità di nuove infrastrutture e della densità abitativa. La disarticolazione tariffaria, evidenzia il coordinatore del distretto Sele e nonché sindaco di Berlosguardo, Giuseppe Parente, tiene conto delle differenze dei diversi territori. Un intervento a Salerno è spalmato tra più utenti, mentre portare l'acqua in un comune del Cilento comporta una diversa gestione delle risorse. Si tratta, assicura, di aumenti di pochi euro sulla bolletta annuale di una famiglia tipo, anche se possono apparire enormi se calcolati in termini percentuali. Grazie. 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 Grazie.